Diciamo che un creme di lecce è a fonti di gordura, perché si colloca, ossia, c'è un perché si colloca creme di lecce dentro di un sorvecce, non è che collociamo perché chiediamo collocare, ossia, è a fonti che a gente normalmente, diciamo, mai usata, specialmente in Italia, è a fonti di gordura nella nostra reseita, ossia, quando mi falta gordura nella reseita, colloco creme di lecce. Allora, se creme di lecce può essere sostituito per altro tipo di gordura, manteca, io uso abbastanza olio di cocco senza bo, tutto bene, ma collocare un creme di lecce desnatato, ossia, sin gordura, la verità non ti ha sentito, intanto non colloca, ossia, se vuoi che vuoi lavorare con un basso teor di gordura, non è un problema, eh, sostituiamo la gordura per fibra, o por un polisaccarideus, l'importante è colocare il solido, teremo un sorvecce un po' più frio nella bocca, che derrete un po' più rapido, perché la gordura, il lavoro della gordura è questo anche, ma sostituire, ripeto, un creme di lecce normale con un creme di lecce desnatato, la verità non ti ha molto senso, quindi non ti aconseglio a fare questo. Grazie.